Purtroppo, come lei sa, i contatti sono interrotte per via degli arresti. Però, su quello rimasto a piede libero, bisogna essere rodenti, perché la qualità è venuta a mancare. C'è pochiazza di tutto, in tutti. Punto e a capo. Per quanto riguarda NG, me lo dicerei che cosa devo fare. Continua a non pagare. E' così che si trattano le persone che lavorano onestamente. Forse non ricorda che c'è un tempo in cui gli ho pulito tante angole. La riconoscenza, per come mi insegnò mio padre, non dovrebbe mai venere a me. Giustamente, a questo babbaluso non ci scafazzi i colna, perché ce l'hai da mezzo. Non mi permetterai mai, però no. Non ha mai usato un certo tipo di espressioni con lui? Io riprenderei da la riconoscenza come mi insegna mio padre, non dovrebbe mai venire meno. Abdo Littorgancio, ok.